Potrei usare le parole di qualcuno, ma non si fa, però l'esperienza e la gioventù, mettiamola così. Filippo Ciotti, Roberto Rossini, con queste splendide rose al vostro Nilla Pizzi, vi avrebbe nel cuore, come si dice. Abbiamo cominciato con il prologo, com'è andato? E' questo il risultato del prologo. Esatto, ma spieghiamola. E io sono l'esperienza. Esatto, quindi si sei spattaccato. Quindi sono andato piano, ho cercato di non fare danni e... E sono caduto. E sono caduto. Perfetto, Roberto? Invece per fortuna le dita le ho ancora tutte. E non sei caduto soprattutto, spero. Non sono caduto. Bravo, ottimo. Tranquillo, fino alla fine. Ottimo, anche perché la gara non è cominciata. Come no? Vabbè, si fa per dire. Ho vinto qualche cosa, non ho vinto ancora niente. Aiutatemi, ce la possiamo fare. Strategia di gara? Tu Roberto darai retta a quello che ti dice Ciotti? Sì, dai. Dipende quello che dice. Meno male, hai già capito. Tranquillo, a lui ci penso io. A posto siamo. Va bene. Bocca al lupo, eh. Crepi. Il briefing a che ora è? Una prova subito? Otto. Otto e un quarto. Sì, vabbè, ok. C'è un quarto d'ora accademico, no? È alle 19 il briefing, ve lo volevo dire. Non ce la faremo mai ad arrivare in fondo. Ciao, eh. Ciao. Ciao. Ciao.